buongiorno a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale signori io avevo una fotta di scoprire queste creazioni in resina che voi non immaginate neanche anche perché ne ho alcune neanche completate che spero vivamente di non rovinare in corso d'opera comunque per chi non mi conosce sono la nitro in arte creativa nitro bijou quindi troverete su questo canale un sacco di tutorial creativi creazioni e disagio come porto di solito anche in live quindi bando alle ciance direi che ne abbiamo un sacco di lettere da scoprire sono carichissima piacciono un sacco e ultimamente sto impazzendo con questi abbinamenti qua questi vediamo come sono venuti queste cose fluo c'è questo arancione fluo che è una roba incredibile li ho realizzati semplicemente mischiando del bianco perlato e i colori a neon quelli in trasparenza principalmente di resin pro dunque non so veramente dove partire allora questi come abbinamenti sono il classico glitter flake bianco o giallo mi sembra abbandonato in resina trasparente e poi il mesciato nero normale e rosa perlato la maggior parte sono trattati così tipo anche questo invece stessa cosa gocce enorme che togliamo assolutamente subito bellissimo la sfumata che fa nel mezzo e questa è con la foglia oro e con la foglia oro vi dirò che l'effetto non mi dispiace neanche non sono un amante della foglia oro sinceramente ma ammetto che è stato un'ottima scelta anche questi sono fatti semplicemente con colorante perlato e flake questo il primo mesh vediamo colore fluo e bianco perlato oh molto fine si decisamente allora le pantine blu che vedete deve essere il colorante blu che non si è miscelato bene perché a parte i flake non ho messo altri glitter eh fatemi vedere un attimo si decisamente ma dai che effetto carino ci sta sembra quasi fatto apposta adoro quando le cose vengono allora questo stampo paura che a forza di farne mi stia dando gli ultimi ok questo è l'effetto ruggiada è come se si vedesse la pennellata che ho dato con con lo stampo comunque se volete un tutorial di questo effetto ruggiada che di solito mi viene molto meglio ditemi qualcosa e vi faccio ecco per esempio questo qua ho sbagliato potevo essere meno precisa con le gocce ma vabbè è un effetto ottico carino si non è male meno precisa la prossima volta io non devo assolutamente rovinare le lettere oh vedete ribadisco io non sono un amante della foglia oro ma ha un effetto all'interno della resina che è veramente una figata ok qua invece ho spacciugato semplicemente perché mi era caduta della foglia oro nello stampo e l'avevo già programmato per fare l'effetto ruggiada che nel suo piccolo è venuta una figata bellissimo bellissimo è rimasta in fogli e non essendomi mai troppo piaciuta non l'ho mai troppo usata ma guardate che fighe anche con questo abbinamento questo per gli amanti del milan è diciamo l'abbinamento migliore infatti devo riuscirci a mettere la scritta o lo stemmino del milan in qualche modo ferrebbe ancora di più una figata ok ok queste con i flakes allora abbinamento signori cosa siete team flakes o team foglia oro io vi dirò che sono foglia oro decisamente non l'avrei mai detto è socia è veramente bello sono allibita ok questo già un po più acceso guardate come anche qua il colorante non si è legato bene e quindi ha fatto tutti i puntini che sembrano voluti ma ovviamente no anche perché se ci provo a farli davvero così non vengono cioè classico oh mamma mia sapevo che avrei fatto il top con il bianco per la tela oro ma non immaginavo così tanto eh quante fine questo sarebbe bello anche farci piattini vorrei tanto regalarmi la cricat e riuscire a fare magari anche il piattino foglia oro e nel mezzo segno zodiacale tipo col vinile non lo so sappiate che se riesco a regalarmi o a farmi regalare la cricat su questo canale vedrete una vagonata di progetti prima la sogno la notte e voi direte fatti curare è troppo bello qua abbiamo anche i numeri che non avevo mai creato io i numeri però mi hanno chiesto dei ciondoli con i numeri fortunati anche quelli legati a segno zodiacale molto bello anche l'abbinamento l'abbinamento viola e oro di prossima wow guardate questo oh vabbè ragazzi guardate che spettacolo anche questo qua con i flakes fa la sua porca figura no niente c'è con l'oro proprio qua c'è un glitter che ha ben pensato di ma che cosa c'entravi tu in mezzo lì è cazzo di cane bellissimi no vabbè ragazzi mille foglie oro mille guardate qua qua addirittura si è sporcato con del verde che si vede che avevo iniziato a dipingerlo con l'ombretto beh dopo questa carrellata di lettere ne farò un'altra bidonata preparatevi probabilmente saranno tutte con la foglia oro e 250.000 colori potrei provare a fare il multicolor tipo l'effetto bellissimo anche col trasparente anche qua col numero make a skin cause qua abbiamo molto fine il bianco e l'azzurro che ho azzurro mi è venuto veramente molto fine il bello di questi coloranti perlati che voi cacciate il bianco su tutta la resina poi pian piano aggiungete il colorante che può essere il blu il viola però quello da vetro leggero leggero bellissimo anche questo e più ne aggiungete più si scurisce quindi potete fare due ciondoli di un colore andare a aggiungere e avere un sacco di sfumature dello stesso tono e qua abbiamo per ultima la uva no veramente ragazzi sono estasiata adesso qua vedete anche nello sfondo tutto il resto delle creazioni che stavo finendo di montare però sono dei toni incredibili 10 più assolutamente alla foglia oro sono estasiata tanta roba bene miei cari se anche a voi il video è piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete e preferite invece le modalità un po' più veloce trovate la nitro e made in questo caso anche su tiktok e frazionerò tipo creazione per chiarazione finché non vi riempirò di lettere allo stato puro quindi signori detto questo ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se volete il tutorial per la rugiada ciao